Un grazie alla SASM, vi apprezzo un sacco, ho visto che siete un'associazione sana e ce ne fossero le associazioni sane e ho visto soprattutto un concetto, una caratteristica che vedo pochissimo che è la solidarietà, ho visto un sacco di gente che si faceva in 4, in 5 a portare dell'acqua a caricare delle persone così, bravi. Grazie.